Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Noi, noi non sappiamo fermarci mai. Quanta polvere che c'è, tutto è fermo da quel dì, sopra il palco ancora la scenografia. Supercalifragilistiche spirali d'oso Supercalifragilistiche spirali d'oso Supercalifragilistiche spirali d'oso Supercalifragilistiche spirali d'oso Supercalifragilistiche un sognatore che piano piano qualcosina sta realizzando e poi sono un abruzzese doc profondamente totalmente innamorato della mia terra che porto sempre con me in scena dovunque ce n'è bisogno dovevo dunque posso allora partiamo dall'attore che difficoltà soprattutto hai conosciuto tanti personaggi com'è fare l'attore bell'attore e per chi ha una predisposizione nel caso mio mi ricordo che la mia insegnante dell'elementare dice che proprio già nella recita della prima prima proprio nella prima classe prima elementare già prendevo in giro la maestra i miei compagni quindi l'indole c'era proprio da piccoli fare l'attore è un pochino giocare con tutto ciò che vedi che osservi e tenti di riportare sul palco quindi è un bel divertimento è anche una grande responsabilità però come dice sempre mia moglie che condivido il suo pensiero è il lavoro più bello del mondo e dobbiamo ricordarci che non facciamo operazioni a cuore aperto quando magari ci arrabbiamo quando non ci va bene che un altro abbia vinto un premio al posto nostro o qualsiasi altra cosa e ci dobbiamo ricordare che le operazioni vere le fanno altri noi quello che facciamo è intrattenere magari informare e far passare due ore un'ora e mezza di serenità alle persone ne hanno bisogno ne abbiamo tutti bisogno che differenza passa tra palco quarto spettacolo cioè quattro apatea oppure il cinema e la televisione beh grazie per la domanda intanto c'è una una querelle storica sul fatto che l'attore di cinema non può essere sempre un attore teatrale perché l'attore teatrale un po più impostato si riconosce subito che fa teatro e non che vive una scena questa cosa per quanto mi riguarda non esiste io vivo di teatro e quando mi chiamano al cinema so anche switchare e cambiare il modo di recitare quindi ancora più naturale dall'altra parte la differenza che c'è tra il palco e il cinema la televisione che rimangono la mia prima passione quella proprio ancestrale quella proprio da bambino e il fatto che il palco succede tutto quella sera ed è irripetibile anche se le battute di uno spettacolo che tu replichi cento volte come ad esempio 58 sfumature di pino sono sempre le stesse però come l'hai detto come ti sei sentito quando l'hai fatto la reazione del pubblico un colpo di tosse che c'è stato in teatro che ti ha bruciato la battuta quella cosa è ripetibile quindi lo spettacolo dal vivo a questa specialità di essere unico e irripetibile su youtube il titanico sarebbe così rosa lo vedi l'oceano sì beata te rosa 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 lo senti il vento sì ma si chiama così grande cose abbiamo notato anche il cabaret cioè il cabaret e cabaret non è solo fatto del comico perché molti confondono che il cabaret deve esserci il comico in realtà il comico subentra nella storia nel cabaret si sembra che sei molto informato la parola è stata un pochino sdoganata e anche diciamo il significato è cambiato grazie a trasmissioni importantissime come zelic no zelic zelic silbus zelic cabaret in quel caso si è pensato che il cabaret fosse soltanto il monologhista non è così c'è un po un'arte varia ecco se devi pensare al teatro cabaret devi pensare al mio maestro pingitore che ne ha fatto un banto perché il suo varietà cabaret che ha portato per oltre 40 anni in televisione e continua ad andare in scena quello è uno spettacolo di arte varia dove c'è tutto c'è la subrette c'è il corpo di ballo c'è il comico ma c'è anche il momento di riflessione c'è la satira c'è limitazione quindi quello è un pochino più cabaret e la se devo proprio dire cosa in questo momento cosa mi piace di più eh sono le storie vere allora sto mi sto realizzando un nuovo spettacolo proprio che che parte dalla storia vera e tra tanti personaggi che hai lavorato ci sono ovviamente abbiamo una lista lunga eh Begnani, Barbareschi, Rubini cioè eh qual è stato quello che è la prima il primo impatto che eh ti ha dato più emozioni tra tanti che comunque guarda allora ehm Oreste Lionello da piccolo guardavo proprio le trasmissioni dove c'era Oreste Lionello quindi Bagaglino non solo e mia mamma dice che io non guardavo i cartoni animati rimanevo imbambolato davanti alla televisione a vedere questo signore eh grande attore doppiatore adattatore ha fatto delle cose meravigliose anche per il Sirano del Bergerac ha fatto delle cose meravigliose e poi l'impressione che ha avuto quando la grande emozione nel conoscerlo e nell'essere introdotto in compagnia del Bagaglino andare in scena lui apriva lo spettacolo eh vestito da Dio e da da faceva una battuta da Dio e poi non solo perché la recitava bene ma perché interpretava Dio e io poi invece ero San Pietro beh quella è stata una sensazione unica le parole tue dicendo lei per rotta mi dava del lei lei per rotta farà molta strada e prenderà tanti applausi lo sa beh grazie Oreste grazie maestro un piacere c'è un sollievo in tutto questo mi dica che quando tutto ciò accadrà io sarò già morto da un bel tempo questo mi disse poi siamo passati anche passiamo anche al doppiaggio sì il doppiaggio il doppiaggio sì ho fatto delle delle cose poi eh lavorando spessissimo con Pino con Pino insegno è ovvio che ehm mi sono trovato coinvolto in certe cose anche se è un'arte bella complicata complessa e ogni volta che devo andare sudo sette camici perché eh non mi trovo a mio agio l'ho fatto mi sono divertito con i personaggi con Pucca American Dead ehm Epic Movie ho fatto delle voci delle cose molto carine divertenti però mi sono anche dovuto ridoppiare in certi film ho andato proprio in difficoltà proprio in difficoltà forte eh però effettivamente il mondo del doppiaggio ci sono tante difficoltà però abbiamo notato che stiamo notando che in realtà queste difficoltà stanno aumentando quindi poi ne eh successivamente ne parliamo con Pino perché il cinquantotto sfumatore di Pino eh oltre che esserete nelle Marche sì saremo nelle Marche saremo da Pignano il nove luglio eh mi auguro che questa intervista riesca ad andare prima così magari invitiamo qualcuno e saremo da Pignano che è macerata perché so che ci sono due a Pignano uno del Tronto e uno di Macerata e noi saremo in a Pignano di Macerata e e poi verremo ad agosto invece a Porto Recanati eh lo spettacolo si sta evolvendo perché quando ha cominciato Pino aveva cinquantott'anni e allora erano le cinquantotto sfumature di Pino adesso sono diventate più di sessanta ovviamente c'è stato un anno e mezzo di di blocco totale lo spettacolo si evolve ma nella sua forma rimane ben saldato sul fatto che è un two man show due uomini eh non è un one man show ma ce ne sono due che cercano di divertire il pubblico. Tanto Pino non ci sente come lavorare con Pino? Beh è stimolante una persona un artista generosissimo che mi ha concesso lo fa con tutti però io devo parlare di me con me mi ha dato delle opportunità ehm veramente grandi mi ha messo in scena con lui e insieme a tutti gli ragazzi io vengo fuori dall'accademia diretta da lui e da Claudio insegno e eravamo 40 il primo spettacolo che abbiamo fatto insieme al Sistina era lontano 2004 ecco questa cosa crescendo eh poi magari ognuno ha preso la sua strada Pino mi ha voluto ancora a lui vicino e sono nati bei spettacoli tipo vieni avanti cretino ehm e e e ciufoli non mi ricordo c'è un altro titolo sempre con ciufoli e poi abbiamo fatto. C'è questo qui accanto ci abbiamo una foto. C'è anche questo e poi e poi è arrivato il 58 sfumatore di Pino dove siamo insieme io e lui. È un grande professionista profondamente innamorato del mestiere che fa è un grande eh anche sognatore anche lui. Lui aveva sognato di fare il doppiaggio e ce l'ha fatto. Hai detto una cosa prima che eh ti stavo per accennare io eh quando prima prima cosa qual è l'emozione che hai provato la prima volta che sei salito sul palco? Qualcuno ha detto prima di iniziare di salire sul palco eh ho pensato ma chi me lo fa fare? Poi in realtà quando sono salito io sul palco hanno provato emozioni incredibili. Qual è stata la tua prima sensazione? Ma il primo pensiero è la prima emozione che hai provato? Beh guarda è molto ricorrente e sicuramente anche a me spesso mi viene in mente dice ma chi me lo fa fare? Me lo fa fare per la memoria per mi ricorderò tutto non funziona niente non funzionano i microfoni e se dovesse passare l'aereo proprio nel momento nel quale dico la battuta più importante. Insomma ci sono mille eh mille pensieri che ti fai e mille auto eh auto fusticazioni ehm prima di andare in scena. Poi quando si apre il sipario sparisce tutto e parte la magia. Quindi è una cosa molto emozionante e e sono successe delle cose strane. Ti racconto una cosa che non ho mai raccontato. Tre anni fa dovevo debuttare il giorno del mio quarantesimo compleanno il 23 luglio. Di tre anni fa dovevo debuttare con uno spettacolo con la regia di Pingitore che si chiamava Nerone versus Petronio. E Pingitore mi aveva affidato il ruolo di Nerone. ora eh chi poteva immaginare che nel giorno del debutto del mio spettacolo il 23 luglio il giorno del mio compleanno mia nonna veniva a mancare. Ora diceva bene è già una un caso questo no? Che il giorno del tuo compleanno il giorno del debutto fai un imperatore ma che mia nonna si chiamasse Nerina nel giorno del mio spettacolo che dovevo debuttare come Nerone. Eh sono casualità davvero molto particolari. Quindi eh il palco cela o cerchi di guardarci dentro qualsiasi magia della vita. E invece le emozioni che provi un parte me l'hai detto le emozioni che provi quando ehm c'è di fronte gente che piange ride ehm eh sta in silenzio ascolta cioè eh però senti il respiro e che che sensazione provi. Quella sensazione che abbiamo cercato di spiegare in un anno e mezzo al ministro Franceschini e magari anche a Conte che in quella conferenza stampa disse gli artisti che tanto ci fanno divertire. Eh non è così non è soltanto questo. Eh come dici tu c'è anche soltanto l'ascoltare il silenzio no? Il la presenza sentire che ci sono e diventa un corpo unico. Tu sei insieme a loro, vivi con loro. Per questo non è possibile sostituire l'on live, quindi il dal vivo con l'online e cioè lo streaming. Non lo puoi fare. Non è possibile. Ci sono delle sensazioni che non sono replicabili. Non sono minimamente replicabili. Questo è quello che io penso di questo. Ci sono state delle volte e te ne racconto uno in particolare. Io porto in giro da tanto dal 2013 uno spettacolo che si chiama Io sono Abruzzo e racconta i grandi personaggi abruzzesi che sono partiti, hanno lasciato la terra natia e sono diventati i grandi e importanti nel mondo, ognuno nella sua eh arte. E mi chiamano per fare questo spettacolo a New York. Intanto penso che sia uno scherzo, non pensavo minimamente dovesse andare veramente a New York a farlo dello spettacolo, tra l'altro al Westchester Italian Culture Center, all'istituto della cultura italiana vicino a New York. Però arrivano i biglietti, parto cinque giorni prima di partire, arriva la telefonata e dico ecco là là, è tutto annullato, era tutto un sogno, era tutto un blef. Dice Federico ma ci siamo resi conto che gli italiani ormai sono di quarta, quinta generazione e questi ragazzi che stanno prenotando, in realtà non conoscono una parola di italiano, riusciresti a tradurre lo spettacolo per loro? Allora magari una persona si può far prendere allo sconforto, come fai a tradurre un'ora e trenta minuti di spettacolo in cinque giorni e soprattutto un spettacolo rodato come quelli? Allora mi sono messo a pensare, ho detto io ho un mio zio che vive in Australia, ho detto allora io come mi scrive lui, come parla l'italiano? E allora ho mixato, ho fatto una sorta di abruzzi English e questa cosa qui ha funzionato da morire alle battute comiche, arrivava prima un gesto di commozione, c'era la risata e c'era la risata di gioia e quella cosa mi ha aperto l'anima, ho detto io sono andato in limitazione, non sapevo come fare per risolvere il problema, mi sono ingegnato guardandomi attorno e questa cosa ha funzionato e in quel caso le emozioni erano tremende, tu sentivi che li stavi facendo divertire ma contemporaneamente gli stavi aprendo un link di passione, di anima, di vita che li emozionava e così per un transfer mi emozionavo anch'io. Cosa ha spinto le persone a prendere e partire, per cosa poi? Per mangiare dottore. Ma si mangiava pure qua? Sì ma loro facevano la transumanza. La transumanza, scusateci, ecco di cosa ci eravamo dimenticati, la transumanza. Col freddo si partiva e col caldo si tornava, nessuno lasciava l'abruzzo, per sempre, tornavano, tornano sempre, hai visto? Pure io sono andato là e ora sono tornato qua. Abbiamo visto uno dei personaggi con il materazzo, il cuscino ben attaccato, quindi classico, tipico anche di noi che si vuole alzare dal letto. Ma in fondo il teatro un po' rappresentato nel famoso spettacolo americana Rumori Fuori Scena, in realtà tu hai detto ogni volta uno spettacolo non è mai diverso, come nel cantante che quando incide la prima canzone, ma poi la canta perché ogni volta si interpreta. Quindi effettivamente non ci avrai mai una serata perfetta, ma ci avrai una serata che in quel momento ti ha più emozioni. Assolutamente, la serata perfetta sarà il 9 luglio da Pignano di Macerata e poi il 4 agosto a Porto Reganati, in questo posto meraviglioso all'aperto dove si fanno gli eventi, sempre con lo spettacolo Compino Insegno. E se posso attraverso di te fare un grande invito a tutte le persone delle Marche che io adoro, anche perché siete cugini, siete cugini un pochino più elevati di noi abruzzesi, questo lo devo riconoscere. avete delle caratteristiche imprenditoriali, di ospitalità e soprattutto organizzative nettamente superiori. Bisogna riconoscere le cose. Poi la mia terra è la mia terra, però le Marche hanno fatto dei balzi in avanti notevoli. Quindi vi aspettiamo, io il buon Pino Insegno da Pignano per godere di una serata perfetta, come dicevi giustamente tu. E grazie anche di questa intervista, sei stato gentilissimo. L'ultima domanda, se potessi risaltare su un tuo palco, un palco tuo o con un altro personaggio che è un palco particolare nel tempo e nello spazio, con chi ti piacerebbe salire su quel palco? Sul palco con tante persone, con tante. Ti faccio dei nomi Oreste, perché non c'è più, Gino Premieri, Corrado e Vianello, Vianello Mondaini. Tutto al passato. Ma so sicuramente chi vorrei sotto il palco. Piacerebbe tantissimo che mio padre avesse potuto vedere il percorso. È molto molto giovane e mi sarebbe piaciuto tanto vederlo sotto il palco, anche perché ci sarebbe stato ogni volta. C'era quando ho cominciato e mi ha spronato a cominciare questa avventura. Secondo me sarebbe abbastanza contento. Bene, allora io vi vi aspetto per una serata magica sicuramente perfetta all'aperto, nel pieno rispetto delle normative, distanziati. La cosa importante è che stiamo bene in sicurezza. Ad Appignano di Macerata, il 9 luglio, con lo spettacolo 58 sfumatore di Pino, che nel frattempo sono diventate 60 sfumatore di Pino. Il buon Pino Insegno, sottoscritto Federico Perrotta, per la regia di Claudio Insegno, un'ora e mezza di risate, di divertimento e di emozioni. Noi ci saremo. Voi? Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Noi, noi non sappiamo fermarci mai. Quanta polvere che c'è, tutto è fermo da quel di... Sopra il palco ancora la scenografia. Supercalifragilistica e spiralidoso! Supercalifragilistica e spiralidoso! Supercalifragilistica e spiralidoso! Supercalifragilistica e spiralidoso! Supercalifragilistica e comfy frattempo, in dubft giro